e bello a tutti ragazzi in questo nuovo video io sono SuperFab e come potete vedere siamo su GTA Online oggi faremo una gita in moto su due ruote dovete sapere dove? su Montecilian il Montecilian si trova in questo punto proprio qua dove c'è la barita ok ecco ragazzi siamo arrivati sulla strada adesso inizieremo a scalare il Montecilian con la moto da cross si deve fare ovviamente con la moto da cross perchè se no con le altre moto con le harvey con le harley con la moto gp appena fare un salto o cadi o se è molto alto muori anche con questo se è molto molto alto muori però è vero possibilità di morire io sono caduto sono morto e caduto molte volte perché c'erano delle lampe grandissime e altissime la rite perché ho fatto un po' il coglione ecco il Montecilian è qua tagliamo un po' di strada cazzo vedete come è abile infatti la moto da cross l'ho comprata solo per questo solo per scalare le montagne invece in città uso la bati la moto gp e la harley di moto con le macchine soprattutto la zentro donati 20 quelle sportive è quasi impossibile perché appena va al contro se c'è una tipo questa in salita e sbagli cadi giù e e non ci piattaverai su qua è pieno di cose io una volta ho provato quel altro intorno dopo tre tentativi ci sono uscito ci sono uscito però avevo la macchina che stava per esplodere praticamente ecco sono già cose arrivati questo quali e la bai c'è la cibo che significa arrivati mi sono arrivati in circa 3 minuti ti penso io devo vedere una lampa in cui io sono morto sicuramente sono sicuro al 8% che anche adesso la rampa c'è la rampa diciamo la specie eccola quella vediamo ecco questo aspetta che tiriamo via sto coso no, sono caduto sono fortunato se non sono caduto tutto ecco visto un errore tipo come questo speriamo che riuscivano a risalire volevo buttare giù il cartello io se questo è vero lo fa lo fate con una macchina 7 al cento per cento già faccio fatica con questo dai siamo casi arrivati non vero no 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 dai cazzo che ci siamo eh no qua è tutto in salita lipida vediamo di qua ok ah porca puttana eh no adesso non voglio più ricadere ok ci siamo non voglio di fare il school di nuovo l'errore cresco da volta c'è una cosa questo cartello mettiamolo da parte perfetto adesso prendiamo la ricorsa ok guardate quanto è alto scusate ma mi aiuta alla camera ok cerchiamo di salire il più possibile e la la non anche a lei penso che ci basta no ecco ecco sono morto ci siamo proprio la morte il fumo ho fatto un altro errore voi avete visto sono morto però non uguale a quello di prima ovviamente adesso la morte va più piano voi vedete sta andando il fumo finchè la barca va lasciamola andare quando sarai sul momento ecco dai scala 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 ok ci siamo per il terzo tentativo questa volta ho la bati perché la sanchez si è distrutta e l'assicurazione non è abominciato disponibile quindi proviamoci con la gp sicuramente sono sicuro 100% che volerò però a nicolabati con lo stesso quindi 3 2 1 e si parte io io do tutto gas porta troia che sfiga ho beccato un albero guardate la moto sua mamma sta scendendo da sola spero spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like e io per salutarvi mi suicido al prossimo video ciao 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 ciao